Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare per traffico, rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e BV11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in FIPI, rallentamenti per i spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze, in carreggiata opposta, coda in uscita a Firenze Scandici e in uscita alla Strassigna. Prima in salutarci per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti sui viali di circonvallazione. Nell'ambito dei cantieri tramvia segnaliamo restringimenti notturni in piazza Dalmazia, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!